Amici di Fanner, buonasera dal circolo sportivo stella azzurra, si chiude oggi la regular season per il checco dello scapicollo e il football hate Roma Nord a caccia di punti fondamentali per andare a giocare i play out. Jay nello scontro precedente, adesso un sbagliato disimpegno, può ripartire il checco dello scapicollo, conclusione provata, pronta risposta dell'estremo difensore. Di gara a fare la partita, attacca bene sulla corsia di sinistra, pallone che filtra, messo in mezzo, colpito il portiere Clementi, sarà calcio d'angolo. Palma, Albanesi esce in pressing, se la cava bene il checco dello scapicollo, pallone ancora per il football hate Roma Nord che può andare alla conclusione. Facile però in presa Clementi, superiorità numerica, Valentini se ne va con il destro, prova alla conclusione, la mette lì sotto l'angolino. Grande azione a liberarsi con il tacco e gran destro del numero 8 del checco dello scapicollo. Girarsi contro Cortese, gioco di suola, poi lascia lì per Eusebi che va centralmente, conclusione con il mancino, che entra in rete, gran gol, quello del numero 11 della formazione di Bonfiglio, Simone Tortosa che riporta i suoi in parità. Resta in possesso della sfera, poi Eusebi ha spazio per calciare il sinistro, pallone che resta lì per Moretti, intervento straordinario dell'estremo difensore, verticale, recupera subito la sfera, però il football hate che vuole mettere pressione agli avversari lo fa con Albanesi. Eusebi, che ha spazio, Albanesi, Clementi, Eusebi, Albanesi si è spostato larga a sinistra mentre Tortosa è venuto a fare il centrale, conclusione provata dalla lunghissima, pallone che si infrange sul palo. Glato, ben otto reti, pallone vivo per D'Ambrosio, ancora a cercare Valentini, dentro per Krasimir, con i piedi d'Angelo, salva il risultato. Eusebi, Moretti, può far correre Tortosa che se ne va con il sinistro, ancora Tortosa, doppietta del numero 11 che porta in vantaggio il football hate Roma Nord. Poi è proprio Valentini che ha portato in vantaggio la formazione che si trova al quarto posto in classifica, se ne va Valentini, va con il sinistro, D'Angelo si distende, manda in rimessa laterale, pallone. Eusebi, Moretti, ancora dentro da Eusebi, pallone che sfila per Albanesi, miracolo di Clementi e pallone che si stampa sulla traversa. Grandissima parata di Clementi che ha risposto al suo collega D'Angelo, poi pallone in mezzo di Albanesi, deviazione di Cortese nella propria porta. Football hate Roma Nord che passa a condurre per tre reti a una al circolo sportivo Stella Azzurra in chiusura del primo tempo. È un po' rischioso, riesce a cavarsela in qualche modo Natalucci che poi perde la sfera regalandola a Crassimir e va con il destro. In calcio d'angolo, ancora D'Angelo. Bravo Portieri. L'avversario, ancora Albanesi, sbagliato l'appoggio, può ripartire il checco dello scapicollo con Di Palma che va con il destro. D'Angelo in calcio d'angolo, ancora lui. Ancora il playmaker Lorenzo Albanesi, da un grande pallone per Martino che calza con il destro. 4-1 Football hate Roma Nord, a dieci minuti dal termine. Di Eusepi, Moretti, triplice fischio del direttore di gara. Si chiude l'incontro per quattro reti a uno. Football hate Roma Nord che raggiunge lo zio Mauro Maccarese a San Giovannella a quota 29 punti. E si aggiudica quindi la partecipazione ai play-out. Grazie.